E' stato reso noto nella giornata di ieri che il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà nel Cilento, precisamente nella città di Agropoli, il prossimo 26 agosto, nell'ambito del suo tour elettorale in Campania. Il popolo cilentano però si divide in due, c'è chi lo aspetta con grande attesa e chi invece è contrario alla sua presenza sul territorio del parco. Per Matteo Salvini sarà anche l'occasione per incontrare i candidati della Lega della provincia di Salerno, tutti impegnati in una particolare campagna elettorale estiva e schierati nella coalizione a sostegno di Stefano Caldoro. La prima tappa di Salvini sarà presso l'ospedale Covid San Giovanni e Ruggi d'Aragona, a Salerno. Alle ore 10.30 si terrà invece l'inaugurazione della sede della Lega in Piazza Malta, mentre alle 12.30 Matteo Salvini si trasferirà in Piazza Duomo a Cava dei Tirreni. Il leader della Lega visiterà in seguito il consorzio Terraorti di Eboli, poi farà tappa ad Agropoli presso il Lido Trentova per un comizio. In serata alle ore 21 si sposterà nella città della Spigolatrice di Sapri, dove terrà un comizio in Piazza San Giovanni. Il suo tour si concluderà a Policastro Bussentino, dove sono previste cena e pernottamento.